ciao a tutti bentornati su clash royale dunque cosa vi voglio spiegare oggi vi voglio dare due o tre consigli sui deck ho qui tre deck pronti tra cui quello che uso attualmente che sono all'arena 5 sto salendo sempre di più anzi alcuni riscontri devo perdere perché mi voglio farmare il simpaticissimo stregone di ghiaccio semmai riuscirò ad ottenerlo ma passiamo ai deck allora sono diciamo tutti il primo deck è proprio di livello basso bassissimo come vedete ha unità che potrete trovare tranquillamente nella prima arena ok quindi tra il campo di prova e l'arena 1 riuscirete a fare questo questo deck qui ovviamente anche non potenziandoli tantissimo vi servirà una mano molto molto grande per andare avanti nelle varie arene se sempre che volete andare avanti diciamo come unità principali c'è ovviamente il principe e come diciamo scudo di carne no come si può definire il il gigante di solito si mette il gigante da una parte lo si fa attaccare dall'avversario e poi dall'altra parte magari si schiera un principe e il pecca oppure il principe e l'archivugere il moschettiere io lo chiamo archivugere per per poter per poter distruggere l'avversaria come vedete non ha non ha un grandissimo costo quindi 3 6 tranquillissimo no ma mai basso quanto il terzo se non mi ricordo male no e diciamo vi potrà aiutare ad arrivare tranquillamente all'arena 3 barra 4 quindi questa qui l'arena del pecca no e però ha diciamo una cosa che potrebbe essere un po un po svantaggiosa il fatto che richieda una carta epica e tre carte rare sono cioè una carta una carta una carta epica e tre rare esatto che potrebbe essere uno svantaggio per livellarlo dopo più avanti e portarlo e portarlo avanti come deck poi ovviamente richiede il principe che tipo io quando io l'ho trovato solamente una volta che sono arrivato nell'arena di pecca dalla quarta arena qui no prima uno dei primissimi forzieri che ho aperto trovato il principe poi dopo sono sceso un pochettino dire anche per farmarmelo ma alla final ma sono riuscito a portarlo portato a livello 2 poi mi sono stancato e sto andando avanti con con rating poi il gigante il moschettiere il mini pecca come detto può essere una cosa abbastanza lunga da farmare oppure anche se siete stati sfortunati e non avete il principe bisogna bisogna trovare qualche carte sostitutive per diciamo un momento che il cavaliere va bene nel caso o il drago nì ma mi sembra che comunque troppo alto di livello vediamo rispetto a no 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 è al primo quindi va benissimo nel caso comunque che vogliate fare un deck che abbiate cominciato da poco e volete fare un deck molto molto semplice e competitivo vi consiglio questo qua questo mazzo qua ha solamente due carte rare e il resto sono tutte carte comuni che potete anche qui trovare nell'arena 1 e è molto tranquillo ovviamente si basa tutto sul sul gigante e su quello che poi quando lo schierate gli mettete dietro per per poter fare da sfondamento diciamo il cavaliere si usa un pochettino più per la difesa nel caso perché costa solamente tre ma comunque riesce ad avere un buon numero di punti ferita ha un costo bassissimo di elisir 3 1 e anche anche questo va bene diciamo per livellare diciamo come ultimo mazzo che vi voglio far vedere adesso e poi dopo farò una partita di prova vediamo se riesco a vincerla che c'ho anche uno slot per per i bauli è quello il mazzo che sto usando attualmente adesso che che qui uso solamente una carta epica e due rare queste qua e diciamo che mi sto trovando molto molto bene con questo mazzo rispetto a prima che usavo gli sgherri al posto diciamo qui della lapide e la torre tesla come si chiama al posto del cannone l'ho modificato perché la torre tesla è stata nerfata quindi per un costo 4 ho preferito passare al costo 3 del cannone che diciamo alla fine viene usato principalmente come come baluardo di difesa abbinata ad una lapide che diciamo mi ha dato mi ha sorpreso molto per per la sua utilità specialmente in ambito difensivo dove continua a sputare fuori quegli scheletrini che tipo vi bloccano il principe avversario mentre mi sta venendo a fare il culo ed è molto interessante passo subito a una battaglia così vi faccio vedere un attimino il funzionamento del simpaticissimo deck qui questo qua allora qui posso io qui parto ok lui mi mette la torre faccio anch'io lo stesso vediamo un po facciamo passare un po di tempo tutto intanto piazzo questo mi piazza la cosa per per generare l'elisir allora io faccio così ovviamente qua devo evitare assolutamente di mettergli unità che possono essere sterrate facilmente ma non viene neanche a grato mi sa che quasi quasi proviamo a far così vediamo un po mi ha messo qualcuno davanti essi questo mi mette gigante c'è così e diciamo che bombarolo e un puttiliardo di persone sono più che sufficienti adesso vabbè l'ha messo male questo ha messo male il cavaliere perché col col mio bombarolo gli riuscivo a colpire lo stesso la sua torre adesso appena hai finito qua di avere l'elisir da questo qua se ne ripiazzi subito un altro grande questo giro diciamo che l'ho fregato prenderò un pochettino di danno forse no no perché li faccio già guarda un minimo proprio uno sputo andiamo avanti così lui mette come al solito il gigante io gli metto il bombarolo continuo a buttare fuori con la lapide che fa sempre bene dopo un bel cavaliere per essere belli protetti davanti adesso lui mette lì la torre questo giro questo giro te li ho fregati allora perfetto mi aspetto un attimino che mi viene avanti metto così bombarolo cavaliere ho sbagliato a mettere a mettere un'unità vabbè vede purtroppo 6 adesso incomincio a sentire la pressione perché comunque con questi 600 di vita non è tanto bello avere avere una torre e andiamo avanti vai adesso due lapidi così incomincia la produzione di scheletri mette che sembrano eh però sono dei rompicoglioni disumani adesso lui si è giocato i come si chiamano i l'orda di scherri allora cerco di fargli un po' di danno un po' così maledette bombe vabbè ma mi sa che purtroppo finirà in parità perché non ce la faccio adesso non ho il tempo proprio materiale di distruggerlo no ah che sfiga andiamo un po' no no mi è andata di bene prima l'attacca sorpresa col principe che comunque è una cosa diciamo bella che da una parte mettete la lapide continuate a pressare l'avversario ne faccio un'altra dai giusto per vedere vediamo se riesco a farla sta vittoria mister banana un po' soprattutto se riuscite a coordinare il vostro attacco con il momento in cui dalla lapide viene distrutta ed escono fuori i quattro scheletri è proprio una cosa perfetta adesso lui mi mette fuori gli sgherri io faccio così vediamo un attimino se riuscita vediamo un attimino se riuscita ok mi metto perfetto gli vado a distruggere il mago questo fa male questo questo proprio fa tanto tanto male tanto dolore proprio e adesso comincia ad essere un attimino più simpatica la situation andiamo gli ammazziamo questi due qua e due goblin maledetti po 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 adesso appena mi ricarico mandiamo mando i barbari che non ho visto ancora lui si usa se ha principe ah eccolo qua il pezzo forte del nostro amico lo doveva cacciare fuori prima o poi allora vediamo un po ah cazzo l'ho tirata l'ho tirata dovevo aspettare ancora un secondino no vai allora appurato che il mister qua è il pecca diciamo ho il tempo di fargli un bel attacco ecco adesso si mette pure guarda non ti fanno incazzare quelli che si mettono così a ridere questo giro te li ho fregati però non sto riuscito a tirarti di giù ah vedi che il principe ce l'ha a lona eh vediamo un po' tada eh t'ho fregato col bombarolo il bombarolo è fortissimo il bombarolo proprio è una cosa esagerata è una carta comune che fa un male cane ad aria mi spiace che ti incazzi il mister banana però la vita è così vabbè un bavone d'argento va sempre bene lasciamolo lì intanto poi si sbloccherà niente comunque adesso vi ho spiegato vi ho spiegato il mazzo vi ho fatto vedere come funziona quello che io attualmente sto utilizzando adesso contando che ne ho provati qualcun altro se avete qualche qualche domanda comunque sulle carte scrivetemi pure nei commenti che cercherò di rispondervi come meglio posso se avete magari una richiesta particolare su come fare un deck o cosa basta che mi mandate potete potete mandarmi uno screen anche tramite facebook sul sul mio diciamo come si chiama sulla mia pagina facebook del canale così almeno vi posso aiutare sempre per quello che posso perché non sono un genio del male in questo gioco per il momento e cercherò di aiutarvi al meglio quindi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale e ciao ciao ciao